Giovedì 13 ottobre, nell'unità di neurologia di Casa Sollevo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, sono state inaugurate le nuove stanze che ospiteranno il sistema di monitoraggio video-elettroencefalografico per l'inquadramento diagnostico-terapeutico dell'epilessia. L'epilessia è una patologia neurologica cronica che si caratterizza per la persistente predisposizione a presentare crisi epilettiche legate ad una improvvisa e abnorme iper-eccitabilità di un gruppo di neuroni. Malgrado la terapia farmacologica, nel 30% dei casi le crisi epilettiche persistono, dando luogo ad una condizione di farmacoresistenza. Tuttavia ci possono essere una serie di possibilità terapeutiche, tra queste anche la chirurgia, come ha spiegato il dottor Giuseppe Dorsi, neurologo specializzato in epilessia e dal mese di maggio direttore dell'unità di neurologia di San Giovanni Rotondo. La chirurgia talora può essere addirittura curativa e senz'altro bisogna effettuare uno studio completo. Il primo passo è associare alla clinica una registrazione di queste crisi epilettiche attraverso la video-eg per definire la zona del cervello da cui partono queste crisi epilettiche. È un esame strumentale in cui vi è la simultanea registrazione sia dell'attività elettrica cerebrale attraverso l'eltroencefalografo, oltre che ulteriori parametri poligrafici come l'elettrocardiogramma, il respiro e il muscolo, e nello stesso tempo vi è la ripresa video del soggetto esaminato. L'EG di solito, oppure a talora, non può essere dirimente per definire una crisi epilettica e vi è la necessità di incrementare la sensibilità e la capacità di visione della parte clinica proprio attraverso la video. Tutti questi esami vengono poi ovviamente esaminati dai neurologi e attraverso un approccio multidisciplinare in cui c'è il coinvolgimento anche dei neuropsicologi, dei neuroradiologi, si viene a valutare proprio da quale parte del cervello partono le crisi. Nel momento in cui si riesce a ben definire la zona epilettogene, e allora si può proporre al chirurgo un eventuale intervento. I soggetti che sono candidati a questa forma di intervento sono persone che hanno forme di epilestine tutto focale, cioè con un esordio della crisi di una parte ben definita del cervello e da lì vengono a essere poi sottoposti a tutto un iter strumentale e diagnostico per definire con maggiore attenzione la zona epilettogena. Nelle nuove stanze appena inaugurate sono state installate telecamere in alta definizione, lampade infrarossi per riprese notturne, microfoni e altre attrezzature per il rilevamento dei dati elettroencefalografici, che saranno registrati e inviati alla centrale di monitoraggio, situata nella stanza di acquisizione adiacente e intercomunicante. Neurologi e tecnici di neurofisiopatologia, con l'ausilio delle tecnologie dedicate, potranno così monitorare e valutare il periodo di osservazione, intervenendo se necessario. Il periodo di monitoraggio che si svolge in regime di ricovero ospedaliero può durare diversi giorni, in base al tipo di epilessia e alla risposta del paziente. Le nuove stanze, realizzate anche con il contributo dell'Associazione Amicamente ODV, che ha donato 35.000 euro per l'acquisto di un sistema innovativo di monitoraggio video EEG, verranno utilizzate per adolescenti e adulti con epilessia focale, candidata al percorso chirurgico. Perché, come ha spiegato Lori La Selva, responsabile scientifico dell'Associazione Amicamente ODV, l'epilessia è una malattia che riguarda tutta la famiglia. L'epilessia non è la malattia di un singolo, l'epilessia è la malattia di un'intera famiglia che deve cambiare le sue regole di vita, la sua qualità di vita, accanto al paziente, per sorreggerlo, per sostenerlo, per far sì che possa superare tutte le difficoltà che incontra durante il suo cammino. Il legame associazione ospedale è un legame estremamente significativo. Questa associazione nel 2005 è nata fra un ospedale e un gruppo di genitori, proprio perché la sinergia delle azioni e delle forze ha consentito di costruire quello che da soli genitori e da soli, diciamo, un medico o altri operatori non avrebbero potuto fare. Quindi le famiglie si sono messe a sostegno dell'attività ospedaliera, a potenziare quello che è necessario, quello che è fondamentale in una struttura che si occupa di una malattia assolutamente particolare, quindi tecnologia all'avanguardia, quindi strumentazioni, quindi volontari, tutto questo fa di quell'ospedale, di quel centro, un punto di riferimento unitario, è in grado di garantire una presa in carico completa anche dalle epilessie più gravi, complesse e farmacoresistenti.